Continuano ad Assisi i preparativi per la festa di San Francesco, patrono d'Italia. Si terrà martedì 4 ottobre. La città serafica è pronta ad accogliere i fedeli provenienti da tutto lo stivale, in particolar modo dal Piemonte, regione di turno, che quest'anno donerà all'olio che alimenta la lampada votiva che arde perennemente sulla tomba del Santo di Assisi. La delegazione sarà guidata dal presidente della regione Piemonte, Sergio Chiamparino, dal sindaco di Torino Chiara Pendino, che accenderà la lampada di San Francesco, e dall'arcivescovo di Torino Monsignor Cesare Nosiglia, che presiederà la celebrazione eucaristica del 4 ottobre alle 10 nella Basilica Superiore di San Francesco. Al termine della Santa Messa, alla quale parteciperà l'intera conferenza episcopale piemontese e pellegrini, è previsto dalla loggia del Sacro Convento di Assisi il saluto alla nazione da parte di un rappresentante del governo italiano. Vivremo la festa di San Francesco, ha dichiarato il direttore della Sala Stampa del Sacro Convento di Assisi, Padre Enzo Fortunato, consapevoli che la misura della vita non è l'io, ma la capacità di donarsi all'altro come fece il Santo di Assisi. L'evento sarà trasmesso in diretta RAI a partire dalle 10. Il programma delle celebrazioni è consultabile sul sito www.sanfrancesco.org.